Scadrà la mezzanotte di domani, 10 agosto, il bando emanato dal comune di Teramo per ricevere proposte di progetto sportivo per l'assegnazione del titolo di Serie D. Ma diverse sono le incognite, al di là di alcuni interessamenti ricordate che fanno riferimento, una ad Antonio Mergiotti, un'altra all'imprenditore romano Luciano Ponzuoli e una terza nella quale figurerebbe solo come collaboratore l'imprenditore terramano Filippo Di Antonio, al momento non sono giunte proposte ufficiali. Il tempo stringe per costituire una nuova società e ottemperare una serie di adempimenti previsti dal bando. Tutto ciò si intersega con la vicenda del ricorso al Consiglio di Stato che Teramo Calcio SRL non ha ancora inoltrato, ma lo farà nei prossimi giorni, forse in quelli a ridosso del weekend. L'eventuale ricorso congelerebbe l'esito del bando poiché resterebbe in piedi l'ipotesi di mantenere la Serie C, sempre che dal suddetto bando esca fuori una soluzione idonea per la ripartenza del calcio terramano. Alla luce di tutte queste variabili, anche a dispetto di quanto detto ieri dal sindaco D'Alberto, non si può escludere anche o una proroga della scadenza del bando o una successiva riapertura, è successo a San Benedetto del Tronto lo scorso anno, sempre però con il necessario avallo della Federcalcio. Proprio perché c'è un possibile ricorso al Consiglio di Stato, i tesserati della Teramo Calcio non sono stati ancora svincolati d'ufficio dalla Federcalcio, anche se ieri la società ha risolto consensualmente il contratto con i calciatori Davide Trasciani, Gianmarco Papaserio e Cosimo Forgione, che ora sono liberi di firmare per altre squadre. Restano ancora vincolati Jacoponi, Bellucci, Viero, Cucurullo, Malotti, Chiere Mateng e Tozzo.